C'è lì, ci vedi per non andare. No, 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 dai, vuoi andare sul motorino, ci vuole il casco. C'è lì, ci sali. No. Rocambolesca fuga di due pazienti dalla casa di cura Santa Margherita di Minervino. Falculo il dottore! Falculo le pillole! Dici ma falculo a qualcuno, dai! No, le parlacce, no. Falculo! Dai! Disgraziati! Io so dove andiamo. Andiamo a trovare mia mamma. Overe, qua è pieno di femmine, pensi a tua mamma? Ah, italiano? Sì. Ciao, bello! Sì. Ma falculo! Ma che no? Tu sei la donna più bella che io abbia mai visto dalla mia vita. Grazie, sei gentile. Di che, figurati. Questa sera è proprio la mia mamma. Tua madre è morta! 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 Riding into space. Sto parlando. Falice! Non te non sei più il mio amico. Tu hai un unico amico e solo io. L'Island. Emo? Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!